Le colpe sul Perrino non sono tutte della regione, anche a livello locale, chi dovrebbe tutelare i servizi dell'ospedale in realtà non lo sta facendo. Con queste parole il consigliere del Partito Democratico, il dottore Antonio Monetti, motiva la presentazione presso l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale dell'ordine del giorno con cui invita l'amministrazione presieduta dal sindaco Mimmo Consales a prendere coscienza del degrado in cui versa il nosocomio messapico per poi intervenire ai piani alti dell'ASL al fine di risolvere la situazione. La notizia arriva poche ore dall'avventura, puntualmente postata su Facebook, vissuta dall'assessore Lino Luperti, rimasto sei ore in ospedale per una frattura al piede procurata dopo una partita di calcetto. Ma il documento di Monetti, specifica lo stesso consigliere, è antecedente e quindi non collegato. Presentato lo scorso 7 agosto è la summa della preoccupazione di tutti i capigruppo da destra a sinistra. La situazione al Perrino è ormai inconcepibile. Quello che era un'eccellenza per tutto il territorio rischia di diventare una barzelletta da sbattere sulle prime pagine dei giornali da tempo costretti ad elaborare titoli sul problema del giorno all'ospedale. L'ASL deve capire che i tagli non possono essere eseguiti con un semplice calcolo ragionieristico. Ci sono servizi e reparti, spiega Monetti, che non possono essere gestiti calcolatrici alla mano, pena la scomparsa. Mi riferisco in particolare ad alcuni servizi di laboratorio. La colpa, secondo Monetti, è dell'ASL che non dà ascolto ai sindacati né a chi in quell'ospedale ci lavora e ci vive da anni. Il Consiglio Comunale, dice il medico, deve ora farsi carico di monitorare le future scelte e le future strategie della dirigenza. La risposta, per voce del direttore ASL, Paola Ciannamea, non si è fatta attendere. Sarà un piacere, ha detto la Ciannamea, spiegare al Consiglio quelle che sono le risorse attuali e in che modo vengono gestite. Anzi, mi aspetto a questo punto delle soluzioni illuminanti che non mancheremo di prendere in considerazione. E sul rapporto con i sindacati, il direttore precisa. Le organizzazioni sindacali vengono ascoltate di continuo e il loro contributo è sicuramente prezioso. Come, non ho dubbi, lo sarà quello del Consiglio Comunale. Alla prossima puntata.